Feroce, della terra. Cosa dico feroce? Feroce. Ma che bravo, facciamo un applauso, va bene, va seguito subito, bravo. Cosa dico bravo? Bravissimo. Benissimo, benissimo, soissimo. Allora, questo animale è stato domato, dovete sapere, una volta suora. E, potete, a parte, è stato domato dal sottoscritto. Quindi, inizierei subito con un bel applauso per il domatore, un bel applauso, grazie, grazie, grazie. Per sapere che questo animale, feroce, con due spalle enormi, con due braccia forzute, feloso, brutto e brutto, questa sera farò un numero veramente speciale, solamente per voi. Questo animale che viene dall'Africa nera, essendo pericoloso, per sapere che una sera si è mangiato un bambino. Un bambino con la maglia a strisce bianche e blu. Quindi stiamo molto attenti, molto attenzialmente. E di gentilità. Ebbene, questo animalaccio, questa bestia feroce, molto feroce, uscirà qui, tra di noi, e sarà a un metro, eh, dal vostro viso. Quindi, mi raccomando, eh, chi soffre un po' di cuore, chi all'assoluto è un po' così, siamo tranquilli. I bambini, eh, i bambini siamo molto calmi, perché questo animale dovrà avere le reazioni, corsi dell'Africa. Preghiamo tutti, anche la signora, di essere all'interno di questo spazio, che si arriva in poi, perché è molto, molto, molto pericoloso. Grazie, grazie. Bene, tra pochi secondi, l'animale, la bestia, sarà tra noi. Ecco, con noi, il gorilla. Ecco, tra noi, il gorilla. Adesso esce il gorilla. Esci dalla gabbia. Esci dalla gabbia. Ecco voi, il gorilla. Come no, ciccio, allora. Scusate. Adesso il gorilla esce. Esci dalla gabbia. Esci dalla gabbia e fai il numero che ti avevo detto. Vai. Qui, davanti a tutti. Porta. Come no? Scusate. Preghiamo voi. Soldi. No, scusate. Allora, quindici anni che lavoriamo insieme. Tu stasera, vuoi soldi? Allora, scuola, ascoltami. Allora, tu adesso esci, fai venti secondi il tuo numero, eh? Fai il tuo coso, quella cosa lì che le fai fare. E poi te ne vai dentro. No, che c'è? Fai la tua gabbia poi dopo. Scusate, scusate a tutti. Incredibile. Pensate, tu, voi, se io devo pagare, io, il più grande domatore della terra, devo pagare... Vieni qua, devo pagare una bestia. Un pochino. Un pochino. Un pochino. Un pochino. Un pochino. Un pochino. E li controlli pure. Tutto questo stiamo insieme, forza. Vai dentro, veno, preparati. Allora, attenzione. Attenzione. Allora, prendiamo un po'. È velocissimo, eh? Vabbè, speriamo bene. È velocissimo, velocissimo. Attenzione. Attenzione. Bravo. Bravo. Bravo, è feroce. Così, feroce. Bravo. Felocissimo. Bravo. Bravo. Vieni. Ciccio. 150 euro. Ah, ah, ah. Esci di qua subito. Forza. Forza. Non farmi far brutte e peggure. Forza. Adesso ti faccio vedere io. Chi comanda, eh? Perché qui domatore sono io e comando io. Facciamo un po' vedere. Facciamo un po' vedere la gente. Insomma, chi comanda. Prego, prendi un po'.